Eccoci qua per la ventitresima puntata del Rompibale Show! Olè olè olè, il Rompibale Show! Olè olè olè, il Rompibale Show! Allora, vi è piaciuta, vi è piaciuta la ventiduesima puntata, eh? Si, si, ci è piaciuta! Signorate, grazie, grazie! Grazie a tutti! Veramente buoni e gentili! Mi fa piacere che vi è piaciuta la puntata del Rompibale Show! Eh, sono contento! Questa mi piace ancora di più! Eh, ciao, 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 ciao! Le mie fans che mi salutavano, eh? Allora, ho trovato un sistema per far sì che le vostre macchine vadino sempre bene! Allora, innanzitutto, dovete fare un rito! Provate ad andare in mezzo al campo, vi fermate in mezzo al campo e fate... E poi dovete cantare tutti quanti questa canzone! Mila, 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 solo con te! Mila, 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 sempre con te! Camminiamo noi, a fianco ai nostri eroi! E allora vedrete che le vostre macchine andanno sempre bene! Non avete, non avrete mai problemi di affidabilità! E soprattutto, non dovrete mai fare il pieno! Poi, dopo un'altra cosa! Vi racconto l'episodio accaduto personalmente a me! Allora, settimana scorsa vado in un negozio a comprare un giubbotto! A un certo punto, dopo la settimana che ce l'avevo, mi si stacca un bottone! E mi accorgo che il bottone è attaccato con la colla! Con la colla l'ho attaccato! Con la colla! Porca di quella mignotta! Allora, sono andato a farmelo cambiare un paio di giorni fa! Vado là e gli dico, mi scusi, guardi, è successo questo problema qua! E devo cambiare il giubbotto, sono venuto qua per la sostituzione! Mi guarda e mi dice, mi dispiace però, momentaneamente siamo sprofisti di giubbotti uguali al suo! Gli ho detto, non c'è problema, ci penso io! C'è campo, oleone! Improvvisamente si è materializzato proprio lì sul bancone, come è arrivato un fulmio, ha colpito il bancone e si è materializzato il giubbotto come il mio! Di colore diverso! Però, ho detto, va bene, va bene lo stesso! E mi sono appigliato il giubbotto e questa qui, credo, era lì, a bocca aperta! E io mi sono appigliato il giubbotto e me ne sono andato! Avete capito? Se succedono dei problemi così, fate come ho fatto io! Gli e gli e gli e gli e gli e gli gli e 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 ghi ghi! Arrivano in fulmio e vi appare la merce che va sostituita! alla grandissima e ci vediamo parte di prossimo ciao a tutti